Se ti vuoi informar, diverti e gioca, stai con noi, vieni qui, ecco per te, tiggi, tiggi, l'anti sketch tu vedrai, stai sicur, riderai, stai con noi, vieni qui, ecco per te, tiggi, tiggi. In questo nuovo mese non abbiamo solamente mangiato le uova di Pasqua. La settimana santa è stata organizzata al meglio ed è stato bello partecipare all'adorazione e alle messe all'aperto tutti insieme. E inoltre ci sono state le comunioni, te c'eri, com'è andata? Guardate cosa abbiamo imparato, ballate insieme a noi! Dio ha bisogno di noi, molto più che tu possa immaginare, ha bisogno di noi, molto più delle stelle, ha bisogno di noi, molto più del mare, ha bisogno di noi, molto più della terra, ha bisogno di noi. Con questo video vogliamo raccontarvi ciò che è successo nel mese di aprile, quindi parliamo di maggio, aprile e maggio. Cosa succederà a maggio? Lo scoprirete a fine video. Intanto facciamo partire il primo servizio e ripercorriamo questo mese insieme. La settimana santa, detta anche settimana di passione, si apre con la Domenica delle Palme, ovvero la commemorazione dell'ingresso triunfale di Gesù a Gerusalemme. In occasione, durante le sette messe del sabato e della Domenica, rispettivamente 27 e 28 marzo, è stata effettuata la benedizione degli olivi e durante la mese della Domenica distribuiti delle crocine con olivo benedetto e la preghiera della famiglia. Il giovedì santo, il primo aprile, si ricorda l'istituzione del sacerdocio e dell'eucaristia. Durante l'ultima cena, Gesù lava i piedi agli apostoli, lasciando il comandamento dell'amore, amatevi gli uni e gli altri come io amato voi. In ricorrenza, è stata effettuata l'adorazione eucaristica dalle ore 9 alle ore 17 e 30, mentre alle ore 19 è celebrata la messa in Cenagomini. Il venerdì santo, il giorno in cui si celebra la crocifissione e la morte di Gesù, è stata quindi effettuata il 2 aprile alle ore 15 la commemorazione della passione di Cristo, prevista la lettura della passione del Vangelo secondo Giovanni, ed effettuata la grande preghiera per tutto il mondo, chiamata preghiera universale, mentre la sera alle ore 20 e 30 all'aperto è stata celebrata la Via Crucis. Il 3 aprile alle ore 19 all'aperto è stata celebrata la Veglia Pasquale, messa che celebra la vittoria sul peccato e sulla morte da parte di Gesù risorto. È stata effettuata la liturgia del fuoco e della nuova luce, con l'accensione del cielo pasquale tramite il quale accese le candele di ognuno. Importante è anche la liturgia dell'acqua che ricorda l'appartenenza a Cristo mediante il battesimo, distribuita all'acqua benedetta. Il 4 aprile all'aperto, alle ore 9 e 11, abbiamo celebrato la Pasqua, Cristo risorto che vive in mezzo a noi. È stata distribuita l'acqua benedetta. Il 5 aprile, in Pasquetta, si ricorda l'incontro dell'angelo con le donne giunte al sepolcro. L'11 aprile è stata la domenica in Albis, cioè la domenica successiva alla Pasqua. Dal 2000 viene celebrata in questa data anche la domenica della Divina Misericordia. In particolare, nella nostra parrocchia, sempre in questo giorno, è stato battezzato Alex. Tutti i presenti hanno assistito al battesimo con gioia. Sabato 17 aprile, nella nostra chiesa, sei ragazzi e ragazze hanno ricevuto l'eucaristia per la prima volta, dopo ormai un anno di attesa a causa del Covid. Alla celebrazione hanno partecipato i parenti più stretti dei ragazzi e chi non ha potuto esserci in presenza l'ha potuta seguire in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia. Come iniziare al meglio il percorso del catechismo se non con un po' di pirata gioé e balli insieme? Domenica 18 aprile ci sono stati due incontri con i bambini degli elementari per spiegare loro la creazione del mondo da parte di Dio coinvolgendoli e finire con una super canzone che ci ha insegnato il Don Dio ha bisogno di te Questo che vedete è il metodo del sangue della nostra regione I colori nero e rosso evidenziano una carenza di sangue e quindi sono necessarie delle donazioni per far fonte a questa carenza Il sangue è indispensabile per la vita ma non può essere prodotto artificialmente e quindi la disponibilità di sangue fondamentale per curare moltissime malattie dipende da chi dona Quindi invitiamo naturalmente chi può a donare Se siete interessati potete contattare Roberto Rosati al numero 0572910079 o Mariangela Guidi al numero 3298835803 Entrambi del gruppo donatore di sangue Fratres Traversagna In questo mese di primavera è sbocciato un nuovo inizio in parrocchia Per chi? Per la nostra Caritas Ma cos'è la Caritas? Caritas non è soltanto un pacco di pasta o un indumento come spesso pensiamo Caritas è un cammino di cura e di sostegno a chiunque abbia bisogno di uno sguardo in più Caritas è un percorso che inizia dalle parole e arriva alle mani guidato dalla preghiera e da qui nasce la novità Il centro ascolto Dal 22 aprile è stato aperto e reso disponibile questo nuovo punto d'incontro aperto ogni giovedì mattina direttamente nei locali della parrocchia adiacenti alla chiesa Alcuni volontari saranno presenti e disponibili per ogni genere di aiuto e supporto Per chiunque sentirà la voglia di entrare ci sarà un posto libero e una mano a sostenere Venite e vedete Questo mese l'angolo culinario vi propone le lasagne con ragù al radicchio e asiago Seguite il video sul sito della parrocchia Se avete altre ricette da proporci per i prossimi mesi contattate Irene o scrivete all'email della parrocchia Così potete partecipare anche voi a questa iniziativa In questo mese insieme alle formichine abbiamo costruito il coniglietto di Pasqua Per poterlo mettere sulla tavola come segnaposso o regalarlo così con un dolcetto al centro Ma ehi tra poco sarà la festa della mamma Ricordatevi di guardare sul sito della parrocchia o sul facebook per trovare il nuovo video del laboratorio Ehi hai sentito la novità di quest'anno Il TGG No ma come un lo sai via Dai bimbi spiegateglielo voi che cos'è Ma hai bevuto vero? No no ma che Guarda lo danno ora anche Un due Ma è mai impestata E me l'ha fatta o Fammi andare a guardare sul sito vai Capito Quindi Ricapitolando Esci di asa Giri a sinistra Dopo il semafero Tutto a dritto per un chilometro Sì nonno Tanto poi c'è il navigatore Ascoltami Dai retta un bischero A quel punto svolti a destra e ci sei Va bene Vado che ho furia Ci si trova in chiesa Aspetta 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 E per ultimo ma non meno importante Si ricorda che tutti i giorni di maggio Mese dedicato a Maria Alle ore 21 Verrà celebrato il rosario all'aperto Tempo permettendo Altrimenti lo faremo in chiesa Pregate con noi Tanti sketch tu vedrai Stai sicur Rinderai Stai con noi Vieni qui Ecco perché Nitti Giri 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 Giri